ciao a tutti ragazzi vediamo cosa mi è arrivato oggi ma già dal titolo sapete che cosa è arrivato e andiamolo ad aprire insieme allora vediamo questo kit l'ho comprato grazie al mio amico marco ruga che me l'ha consigliato eccolo il kit per riparazione delle biciclette in carbonio questo è il nastro in carbonio questa è la resina e l'indurente e questa resina è migliore rispetto a quella che uso io infatti quello che uso io e 100 parti per 50 parti cioè 50 di indurente 100 di resina questo come vedete qua è 140 significa che sono 100 parti di resina e 40 parti di indurente allora a parte questo l'ho comprato da sorvolando compositi vediamo il nastro perché marco ruga che la settimana scorsa ha partecipato al mondiale ragazzi per le bici reclinate è arrivato quarto per un soffio non è salito sul podio quindi iscrivetevi al suo canale è detto questo carbonio è molto diciamo è meglio di quello che uso io perché appunto non si sfilaccia come vedete cucito rende più facile le riparazioni e meno spreco di resina a marco ruga è arrivato quarto al mondiale per le bici reclinate con una bici costruita da lui stesso e ragazzi perciò andate veramente a vedere il suo canale iscrivetevi al suo canale perché io riparo le biciclette ma lui le costruisce che dite ragazzi qua c'è un pezzetto di carbonio proviamo a vedere se carbonio vero carbonio finto vediamo è non brucia e mi sa proprio del carbonio vero ragazzi mi sto bruciando le dita ma il carbonio non brucia ottimo carbonio allora dato che è tutto cucito sarà molto più facile fare le riparazioni e e e meno carteggiamento ci sarà vedete c'ha le linee sono trasversali da questa parte perché sono due fogli di carbonio dall'altra parte le linee sono al contrario vedete se vedete qua sopra in alto non so quindi ci avrà una trama con due forze opposte ok spero che quest'altro video vi sia piaciuto questo è un nastro che mi credo che sia cinque metri lungo quindi a voglia a riparare biciclette mi durerà per anni come al solito mi raccomando iscrivetevi al mio canale è gratis ciao e al prossimo video